segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te sono sempre a favore quindi penso anch'io che questa guerra sia davvero troppo lunga destinata ad esserlo ancora di solito si invocano le elezioni le prossime elezioni americane no come turning point e quindi come punto di svolta per capire che cosa succederà a seconda di chi le vincerà sicuramente c'è un sentimento di stanchezza che sta crescendo in tutti gli elettorati ci sono anche linee di divisioni sia a destra che a sinistra è tra chi è più favorevole all'invio delle armi chi invece è nettamente contrario cioè dentro agli stessi partiti sia della maggioranza che dell'opposizione quindi insomma si 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 sta muovendo sempre di più qualcosa dopodiché io penso che la campagna elettorale è destinata a condizionare queste scelte secondo lei ebbè è una linea di divisione che attraversa sì sì che attraversa i diversi elettorati e quindi probabilmente avrà un gioco anche nella campagna elettorale vediamo anche nuovi partiti nuovi movimenti insomma che stanno nascendo in vista delle europee proprio su su questa tematica non c'è dubbio che le ripercussioni della guerra sono evidentissime secondo lei sarà un problema per la sinistra la lista di santoro potrebbe togliere qualcosa è qualcosa che il pd teme no io non penso questo vedo un tentativo di sorpasso così molto molto sforzato da parte di conte proprio su questa cosa che prova a recuperare sia a destra che a sinistra sinistra mettendo la bandiera del pacifismo a destra recuperando l'approccio securitario devo dire la verità mi spaventa meno la lista di santoro perché lo vedo ancora come un esperimento con tutto il rispetto insomma neonato da qualche punto di vista io però credo che l'appoggio all'ucraina ovviamente non possa essere messo in discussione non ce lo possiamo permettere perché vorrebbe dire che noi accettiamo che uno stato si sveglia la mattina e fa carta straccia di tutti gli accordi internazionali per cui questo è stato tra l'altro un fiore all'occhiello penso di questo mandato europeo dove si è riscontrata un'unitarietà notevolissima su questo punto non possiamo permetterci di metterla in discussione chiaro però che c'è una mozione di realtà il punto è se se questo chiedo a velardi e poi a campi se diciamo la campagna elettorale così che abbiamo visto non soltanto in italia è iniziata già per l'europeo